Un bottiglione di marmo alto più di 11 metri e con ai piedi quattro aspiranti beoni. Così i milanesi chiamarono l'opera Un Litter in Quater o Un Litter e Quater Quartin. Soprannome non per un monumento all'osteria ma per il tributo di Milano a Leonardo da Vinci nella piazza creata nel 1855 dall'architetto Luca Beltrami che completò anche la facciata di Palazzo Marino e progettò inizio a Novecento il palazzo della banca commerciale. Ai piedi del basamento in granito rosso di Baveno i suoi allievi Marco Doggiono, Antonio Boltrafio, Cesare D'Assesto e il prediletto Andrea Salaino. Quest'ultimo in realtà si chiamava Gian Giacomo Caprotti, un giovane arrogante e scapestrato e molto bello e Salaino significa piccolo diavolo, anche un po' ladruncolo, se è vero che lo stesso Leonardo era certo che il giovane gli avesse sottratto quattro lire. Alle loro spalle quattro bassorilievi che raffigurano Leonardo Pittore mentre dipinge l'ultima cena, scultore intorno al cavallo degli Sforza, architetto mentre disegna la dimora del Duca Valentino e idraulico alle prese con navigli e canali. Un monumento opera di Pietro Magni che si formò all'Accademia di Brera nella quale in seguito divenne professore di scultura e che ha una storia quanto mai attuale, oggi si direbbe di ordinaria burocrazia. Ci vollero infatti ben 13 anni per realizzarla e ben 7 di essi a causa del concorso per stabilire l'artista a cui sarebbe andato l'incarico e per le trattative economiche. Il primo stanziamento di 52 mila lire venne fatto da Francesco Giuseppe e così nel 1858 fu bandito il concorso che Magni vinse l'anno dopo. Fu Massimo D'Azeglio ad accollarsi il resto delle spese a nome del nascente governo nazionale. Poi il comune aggiunse 20 mila lire e la provincia altre 5 mila. Così nel 1872 il monumento fu inaugurato. Ci fu anche il classico Brindisi con un liter in quater.